Eccoci con Grossi, appena finita la partita, ora uno iniziante 3, UFR 3, vincevate di 3 gol, poi cosa è successo? Sono saliti bene loro, sicuramente nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi, loro compatti, con le trame offensive hanno alzato il pressing, abbiamo subito l'arrembaggio, sono stati molto bravi e concreti, peccato sul rigore, soprattutto il primo gol, però possiamo solo imparare da questo, tiriamo dritti alla prossima. Allora ti chiedo, per questo pareggio finale più meriti dell'UFR o demeriti dell'Orione? 50-50, sicuramente loro molto bene nel secondo tempo, noi abbiamo lasciato troppo, ci siamo spenti, eravamo partiti molto bene, primo tempo ci siamo imposti bene, poi abbiamo calato i ritmi, molto bravi loro nel secondo tempo, distribuiamo, 50-50. Allora pari e non si offende nessuno, ringraziamo Grossi per il suo tempo, complimenti e bocca al lupo per le prossime. Grazie.